Ecco qua, abbiamo preso un po' l'esame parlando di mobilità, una cosa reale, in modo che chi ci ascolta riesce a capire anche di che cosa parliamo concretamente. Esempio concreto, la nuova idea, il nuovo progetto del tram a Padova, ripreso in considerazione il mezzo di trasporto già esistente, duplicarlo peraltro con un altro percorso. Le obiezioni fatte dal professore ben chiare, quindi non è un mezzo ambientalista, tra l'altro consumi anche quello. E come amministratore però, in base a quali logiche rispondono queste scelte, alla luce di quanto stiamo dicendo che dobbiamo ricostruire, rivedere le nostre città in un'ottica di cercare di mantenere la situazione, non peggiorare le situazioni? La risposta più semplice che si vede sui giornali, sulla stampa è il finanziamento è stato dato per quel tipo di progetto, rischiamo di perdere il finanziamento. E quindi si guardano i soldi e torniamo al solito discorso. Ecco, allora, qui secondo me... A me cascano le braccia. Sì, ma probabilmente anche da questo punto di vista torniamo un po' all'inizio della nostra discussione, cioè se si continua a ragionare in termini di strumenti tradizionali, anche per quello che riguarda la progettazione e il finanziamento delle opere, non ci si rende conto che le tecnologie avanzano oggi con tempi notevolmente più rapidi rispetto ai tempi in cui le regole per i finanziamenti e per i progetti sono state realizzate. E quindi la burocrazia tra l'altro. Allora, se oggi, penso da questa trasmissione, viene un suggerimento agli amministratori attuali. Primo, mettiamo attorno a un tavolo, non ci vogliono anni, mi pare che la vicenda dell'ospedale lo ha spiegato, se si fa una discussione anche pubblica, molto rapida, molto seria, con grande disponibilità, mettendo attorno al tavolo di discussione conoscenze ed esperienze, si può comunque trovare qualche soluzione migliorativa. Secondo aspetto, bisogna cominciare a ragionare individuando gli strumenti laddove sia possibile, perché è chiaro che non sempre è così, individuare gli strumenti per cui l'obiettivo, una volta che è stabilito che io finanzi un'opera per migliorare la mobilità in base ad un progetto, questo obiettivo deve comunque essere migliorabile ed adattabile alle esigenze, nel frattempo, maturate, secondo un'ottica di ottimizzazione del risultato. Io penso che se si comincia anche da parte dell'amministrazione, altro concetto importante che introduceva Corrado, non si può più pensare a queste strutture come strutture collegate semplicemente al territorio della città, bisogna ragionare in termini di area metropolitana, usiamo un termine molto di moda, quindi mettendo assieme conoscenze e esperienze anche delle aree con termini, raccogliendo i dati anche di chi vive, lavora e risiede nella cintura urbana, perché poi sono effettivamente quelli che utilizzano maggiormente, ancora di più per certi aspetti, sotto certi profili, degli stessi cittadini, delle stesse persone della città. Quindi è chiaro che quando io faccio un ragionamento di questo tipo mi rendo conto che in un certo senso voglio forzare un po' le regole, però è indispensabile in momenti come questi, cioè le risorse sono poche, impariamo anche dal mondo dell'imprenditoria, cioè quando le risorse sono poche gli operatori che hanno risorse sane lavorano per migliorare al massimo la resa dell'investimento che fanno, se quando si fa un investimento, parliamo di milioni di euro, non stiamo parlando di bruscolini, quando si fa un investimento di questo tipo e magari ci rendiamo conto, anche qui uso una provocazione, che magari tra 40 anni avrà già finito il suo servizio perché gireremo tutti, io sentivo, non mi ricordo dove, una trasmissione, in cui si diceva, se le cose vanno avanti così, con la guida automatica delle auto, la gente non comprerà neanche l'auto, esce di casa, passa lì davanti un'auto, monta su, scrive vado in quel posto e tra un po' di tempo, naturalmente con il traffic of cars sarà così. Io ho partecipato recentemente proprio a un convegno sulla mobilità elettrica e a chiamata, tra 20 anni si prevede. Che è già tanto 20 anni. 20 anni non è tanto. Sì, sì, ma il senso è che forse anche prima. Ma se tra i 5 anni è finito vuol dire che tra 15 anni dopo corriamo il rischio che non si sa se servirà. Sì, tra l'altro sarà fatto tra 5 anni e quindi sarà... Avrà un progetto di 50 anni di vita. Un punto politico importante, che purtroppo anche per le elezioni politiche se ne parla molto poco, è il discorso dell'autonomia. Noi, per prendere questi 60 milioni di euro, che sono nostri, perché sono delle nostre tasse, anche dal punto di vista etico, un sindaco deve cercare di portarseli a casa, perché in fondo sono soldi dei cittadini, dei suoi cittadini, no? E quindi deve cercare di portarseli a casa. A qualsiasi costo. Anche di fare una cosa inutile. Al quale però poi ne deve aggiungere almeno altri 40 mila, perché il tram più le manutenzioni, più tutto. Che sono costosissime. Quindi, voglio dire, fare questa opera è una opera molto impegnativa e questo lo si fa solo perché il governo ci dà i soldi a condizione che si fa quello che dice il governo. Il sindaco, il vice sindaco è andato a trattare, ha detto cordialmente con il ministro, e il quale praticamente, ho letto il comunicato, gli ha detto dovete fare quello che vi diciamo noi, al massimo scegliete il colore del tram, ecco, più o meno, perché ormai loro lo vogliono, e perché fanno così. Ma questo, guardate, non succede solo in Italia. No, no, no. È un trend che ho visto succede in tutta Europa e anche negli Stati Uniti. I governi centrali, federali, assegnano queste risorse ai comuni. C'è un accentramento, va bene, del potere, perché invece che lasciare la finanza locale che possa gestire queste cose, è la finanza derivata dal centro che ti assegna i soldi per poterli fare però come vogliono loro. E come vogliono loro sono tre, quattro compagnie, tre, quattro società, imprese che riescono a, che lo sanno fare. A realizzarlo in quei termini. E che sono, che operano fondamentalmente in oligopolio. E facendo, volendo fare l'ultima piccola polemica sul tram di Padova, l'impresa che è fallita, è stata assorbita, salvata tra ogni soldi pubblici dalla Francia, che li aveva, dal governo francese, che li aveva promossi già 40 anni fa e che 40 anni fa, 30, 20 anni, erano stati pensati 40 anni fa. Sono stati applicati 30 anni fa e adesso arriviamo noi. Riccardo, viene da sorridere per non dire altro. No, questa parentesi qui sulla mobilità era dovuta perché per riconcepire la nostra città ha un ruolo importante. Ha molta influenza dal punto di vista anche della costruzione delle case. No, no, per quello dicevo è importante. Noi abbiamo scaricato sulla mobilità quasi tutti i nostri problemi. dal problema dei pendolari, no? È un modo di scaricare sulla mobilità l'organizzazione del lavoro. Cioè io posso lavorare, vado a lavorare a Verona, c'è gente che fa il pendolare su Verona, su Bologna, gli studenti che fanno i pendolari. È una cosa, a mio parere, assurda. Perché non facciamo caso degli studenti che possano fare una vita universitaria stando sul loro posto, anziché favorire questo pendolarismo degli studenti? Non so se mi spiego. Sì, sì, no, ma è chiarissimo. E questo? Sì, è questo punto sulla storia del pendolarismo. Introducendo un concetto che fino adesso non abbiamo trattato, che è quello dei non luoghi. Quando noi ci spostiamo, viviamo zone che non hanno una funzione di vita. Ma se noi andiamo a analizzare la nostra giornata, scopriamo che chi più chi meno, qualche ora al giorno, la trascorriamo in non luoghi, che sono i luoghi di spostamento. Che per lo più poi sono luoghi ad alto inquinamento, con situazioni ambientali molto spesso degradate, che creano problemi alla salute, difficoltà di controllo. Ecco, il libro che Muratori presenterà, il mio libro che presenterà il 16 marzo, e poi spero anche in un'altra occasione, parla proprio dei non luoghi, che esistono un po' dovunque. I non luoghi sono, non so, la zona dove siamo noi adesso. Stavo pensando la stessa cosa. Veniamo alla sera, è il posto migliore, che so, per spacciare, per prostituirsi. Allora, dobbiamo migliorare la qualità della vita, utilizzando tutti i sistemi che noi possiamo avere. Anche questo, quello di migliorare la qualità dei non luoghi, trasformandoli in luoghi. Ma io volevo richiamare un ragionamento che ha fatto prima l'ingegnere Furlan, quando ha incominciato a ragionare sul fatto che è modificato il modello del compratore. In realtà sta accadendo qualcosa che è veramente importante e ancora non lo cogliamo bene, o perlomeno non tutti l'hanno ancora colto. È successa una rivoluzione nelle persone. La grande crisi economica del 2008 in realtà era una crisi che già da tempo era latente. Si è manifestata in maniera dirompente con la crisi della finanza. Ma in realtà si stavano già modificando i consumi delle persone. Le persone hanno incominciato già da tempo ad avere consumi di natura diversa. tendono a consumare meno beni materiali e quello che invece stiamo vedendo stanno crescendo in maniera importantissima, fortunatamente dico per noi italiani, tutto quello che è il consumo del bene emozionale. Sto pensando proprio a questo, quello che trasmette una sensazione. Una volta aveva una funzione semplice. Mi ricordo che gente mi diceva ma a me la casa non interessa perché tanto dopo vado in discoteca, faccio questo, faccio quello. La casa è un luogo dove io vado a togliermi un abito e me ne metto un altro. Oggi che i valori si stanno rimodificando, stanno tornando a essere centrali valori anche di tradizione. L'alimentazione, il cibo torna a essere, basta fast food, pensiamo a un cibo di natura diversa. Io sono molto, come dire, sensibile a questo problema, come potete ben vedere. Anche dove lo prepari bisogna una cucina che sia una cucina, non un angolo cuttoso. Sì, ma io ho bisogno di avere tutto un modello di vita che sia diverso. Stanno crescendo i consumi per quanto riguarda spettacoli teatrali, musicali, cinema non ancora ma arriverà anche lui. Stanno crescendo i consumi dei beni museali, sta in maniera esponenziale crescendo il turismo culturale. Sono tutti i fattori che mi apportano a dire che stiamo consumando meno beni materiali, anche perché le abitazioni di un tempo, il famoso armadio della mamma, è perché io avevo bisogno di rappresentarmi con degli elementi simbolo che erano gli abiti, la macchina, non la casa. E quindi abbiamo accumulato beni su beni, perché poi è chiaro che seguendo le mode io non posso usare la giacca per tre anni di seguito, ma non la butto via, la metto là. Quindi la nostra casa non è diventata di magazzini di cose inutili. Oggi la gente invece vuole vivere la casa come bene di emozione. Quindi anche questo sta cambiando. Io lo sento che anche i miei clienti, che fanno il lavoro dell'ingegnere Furlan, mi ritornano, perché io ho sempre avuto come atteggiamento nostro quello di creare qualcosa che avesse delle emozioni. La barriera che divide l'edilizia dell'architettura è l'emozione. Una buona edilizia ti risolve una serie di problemi, di abitativi, di funzioni, di varia natura. L'architettura subentra quando tu nel vivere con lo spazio hai un'emozione. L'emozione manca nelle periferie. Perché abbiamo ancora le emozioni nei centri storici? Perché sono luoghi da scoprire. Le periferie si comprendono immediatamente, sono troppo elementari. Quindi la complessità dell'uomo ti crea l'emozione. Però secondo me dipende da come... Io stavo pensando che ormai è diventato... Però era una periferia. Perché Milano ha creato una nuova... Quella che era la periferia, zona fiera per esempio, la fiera storica, non ro. Era una periferia della città, è diventato un nuovo centro. È carino, è da scoprire. Ma non è facile da capire. Cioè è proprio come dire... Io porto un esempio che ormai... Perché Milano lo stiamo vedendo e si sta consolidando. Ma c'è un altro luogo in Italia dove hanno fatto un intervento formidabile. Se ne parla troppo poco. È l'ex stabilimento Fiat di Novoli a Firenze. Dove lì, con bando internazionale, Leon Crier ha progettato un sistema che occupa una dimensione quasi di mezza città di Padova. Dove hanno collocato il luogo simbolo, l'elemento simbolico caratterizzante che è il nuovo tribunale di Firenze. Riprendendo un vecchio progetto che non era mai stato realizzato da Leonardo Ricci, grande architetto che presto a tardi lo scopriremo. È quello presso cui si è formato Renzo Piano, che tutti conoscono. Leonardo Ricci è l'allievo privilegiato da Michelucci, quindi un grande architetto. Dopo morte gli hanno costruito questo edificio. Straordinario. Ma quello che è più interessante è che ha costruito una parte di tessuto della città secondo gli schemi di una logica di non comprensione immediata. Per cui tu affronti queste strade, questi viali, non hai lo sbocco finale, non hai l'ortogonalità definita in tutti i suoi assi, ma tu hai edifici che ti si affacciano, non sai se dopo l'angolo avrai una piazza o avrai un vicolo. Questo, diciamo, muoversi in una città che diviene di passo in passo diversa è un'emozione pura. È questo che voglio dire, che le città storiche, questo ce l'hanno perché è nata da germinazione spontanea, le città della speculazione non lo hanno perché la cosa più semplice è strada ditta, lotto da qua, lotto da qua, lotto da qua, lotto da da, e vai che ti vendo. Esatto. È un'emozione che ha nelle periferie urbane il disordine, la violenza, l'orgio, l'insicurezza. Quelle sì che sono le vere opzioni. Sì, diciamo, perché hanno in un altro questi sono luoghi. Sì, ingegnere. Aracciandomi al discorso dell'architetto Muratori, effettivamente fino a non più di sette, otto anni fa, chi comprava casa, cosa succedeva? All'acquisto dell'abitazione c'era un preliminare, d'accordo, e poi ci si vedeva sì e no due volte in fase di tracciamento di impianti in cantiere e in fase di scelta delle finiture, ma veramente un paio di volte, e si arrivava alla consegna dell'appartamento con l'acquirente che di fatto neanche conosceva quasi l'appartamento che andava ad acquistare, perché lo comprava magari su carta e non ci dedicava tanto tempo. Oggi, invece, proprio su richiesta del mercato, cioè è un'esigenza che è nata, è un servizio che abbiamo messo in piedi proprio perché abbiamo avvertito una nuova richiesta del mercato. Una volta avvenuta la fase preliminare, d'accordo, inizia subito un'attività di collaborazione tra noi e il cliente affiancato da un architetto per studiare assieme la casa a livello di spazi, di gestione di spazi, di gestione delle finiture, cose che fino a qualche anno fa erano impensabili. Oggi, invece, proprio è una cosa che è nata perché abbiamo sentito questa esigenza, questa domanda del mercato. Oggi, quando una persona compra a casa, ha piacere di seguire il più possibile l'abitazione e di essere anche consigliata da esperti, d'accordo, di interior design, piuttosto che esperti architetti, perché si vuole non più un tetto sopra la testa. Ma perché diventa un luogo di vita? Mentre fino a pochi anni fa era un luogo di transito. Esatto. E l'un altro non luogo. Oggi l'abitazione deve emozionare, deve essere gradevole, deve essere piacevole e soprattutto la gente cura molto, la segue molto di più in fase di realizzazione che non fino a qualche anno fa. Anche è una competenza che si è acquisita con il tempo, quindi anche là è una cultura che cresce, che prima non c'era secondo me. È un cambiamento radicale che sta avvenendo in tutti noi. È proprio anche questa idea delle nuove professioni. Cioè io ho appena cambiato casa e tranne io che mi sono messo i mobili che avevo e ho comprato pochi mobili, tutti gli altri nel mio piccolo condominio si sono fatti fare l'arredamento da dei designer veri e propri. Quindi la professione, una volta bastava costruire i muri, voi costruttori, adesso c'è anche il discorso dell'organizzazione. Una volta, tra costruttori, l'architetto me l'ha dato, tra costruttore e progettista, d'accordo, architetto e ingegneri, c'era, non voglio dire che c'era una lotta, però c'era veramente contrasti forti, perché il costruttore, fai come dico io, bisogna spendere poco, bisogna fare così perché mi conviene, perché faccio prima. Oggi invece il costruttore va in cerca dell'architetto perché ha bisogno... Che dà una suggestione in più, perché è quello che oggi viene anche venduto, l'emozione. L'architetto nella casa, e io devo dire che la mia è stata disegnata con criterio, e anche poi gli arredatori, le persone che sanno... E questo deve diventare un modello per la città, perché noi dobbiamo parlare della città, che noi, il loro angolo, siano piacevoli. E allora qui ci vuole anche l'intelligenza in più dell'architetto e del costruttore nel costruire delle case che possano essere dei luoghi, dei condomini, perché adesso poi... Come? Quando sono condomini. Quando sono condomini. O piccoli condomini, o quello che è, che consentono di avere anche dei servizi all'interno. Io quando abitavo, io parlo anche di 30 anni fa, mica da poco, abitavo negli Stati Uniti, ho sempre avuto, abitavo quasi sempre nello stesso condominio, dove c'erano dei salottini che venivano, che erano a disposizione di tutti, in modo che io potevo avere un appartamento più piccolo, oppure se non volevo far entrare qualcuno in casa, lo ricevevo nel salottino di condominio. Se qualcuno voleva fare delle feste, lo prenotava, in modo da non dover essere costretto ad avere quella camera in più che magari non usavi mai, o che non avevi soldi per comperare. Anche qui cambiano anche i nostri rapporti, non abbiamo più le famiglie con tre, quattro figli, non abbiamo più le grandi famiglie, quindi anche il disegno, la concezione della casa deve essere adattata alle nuove domande. È sicuramente mirata al servizio. La palestra in casa, di condominio. Infatti io l'ho vista a Milano, la palestra condominiale. L'ho vista a Milano che ha costituito proprio una serie di palestre nei condomini e fa una... Sì, 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 che non sono neanche tanto grandi, infatti è bellissimo. Vi do di nuovo la parola, un attimo solo, pubblicità, poi torniamo insieme tra poco.